Buon dimotta a tutti quanti. Buon dimotta. Mezzanotte e mezza. Buonanotte, motta. Non sposate le cause di nessuno. A mio avviso, oggi come oggi, vedo, e io sono uno che gira parecchio su YouTube, vedo che c'è un sacco di persone, giovani, vecchi, belli, brutti, forti, deboli, bodybuilding o meno, che sposano le cause. Soprattutto sposano le persone o le cause di queste persone o entrambe le cose. Cioè, cosa voglio dire? Non so, quando vedi gli haters. A me sono un concetto che poi ti prendono magari per il culo e non sia vero che sono sfegattati per Tizio e Caio o per la causa che Tizio e Caio propongono. Ammettiamo che molti siano anche sinceri nel farti la guerra dell'odio, no? Quando senti, allora, attenzione, tu chi sei per parlare di Wallace o di Miletto o di chiunque, no? Possibilmente sei, come posso dire, fatto notare con delle critiche alcune lacune o comunque dici quello che pensi e che magari non è tutto positivo, anche se dici delle cose positive sul soggetto in questione, ma basta che ne dici una negativa che scatena ti uccello, no? Quindi tutte queste persone che sposano queste cause, io la domanda che avrei da fargli, ironica, metaforica, chiamatela come volete, è sempre una. Perché? Cioè, mi domando, scusate cambio mano, scusate il balletto, mi domando, ma porca miseria, ma qual è il motivo per cui uno si deve così tanto votare al proprio youtuber fitness? Cioè, mi sta bene che uno a me fa piacere quando mi dicono, ma sei un grande, mi piace quello che dici, come lo dici, perché ci sono tanti, ma benvenga, ma ci mancherebbe. Non dico mica di non esporre i propri gusti e scrivere quello che pensate su di me, ma ci mancherebbe. Ma va benissimo ed è giusto che sia così al di là di tutto. Ma porca di una puzzoletta inviperita, imputridita. Cioè, dico, ma quando sento quelle cose all'inverosimile, gente che si rivolta letteralmente sul tubo, non perché tu non capisci un cazzo, perché tu vali l'unghia di tizio, il pollice di caio e la minchia di mia sorella. Ma come cazzo stai messo? Cioè, voglio dire, è normale che poi, se tu mi insulti deliberatamente, e come io ho già risposto a mio follower nei commenti, io ho molti ragazzini, ma non li cacco proprio, non cago, è cacco, perché è un po' più volgare, vende più l'idea, non li cacco proprio. O perlomeno, sì, gli rispondo, ma di solito non sempre con quel tono volgare o d'offensivo. Mi diverto a ironizzare, a prenderli per il culo e molte volte non gli rispondo neanche, o metto la faccina, o dico due parole. Perché non è che li cago molto cacco, scusatemi, molto più di tanto. Molti mi dicono, ascolta, cancellali, bannali, fuori dai coglioni, ignoranti. Ma ragazzi, ci pensate già voi a dirgli quello che si merita, non è il senso. È normale che poi voi rispondiate a questi soggetti, perché è un conto se tu attacchi quello che dici o anche quello che sono, ma in funzione di quello che esprimo. Un bel giro di parole però penso che sia stato abbastanza chiaro. Cioè mi attacchi perché quello che esprimo non ti va, ma mi attacchi intellettualmente, concettualmente, ideologicamente, fattivamente, portando qualcosa di concreto con delle discussioni, un minimo, basate sull'intelligenza e sulla coerenza. Per rendere la qualità della discussione, non dico elevata, ma sufficientemente elevata. Ok? You know? Quando vedi commenti, non faccio nomi eh, l'AMS086, quando vedo commenti vai a lavorare, ma che cazzo c'entra? Ma poi questi si divertono, scrivono l'AMS086, parte il fatto che ho scoperto chi è, questa è la cosa bellissima. Lui non lo sa, io so chi è lui, perché vedete l'informatica? se la dà in mano a dei geni, e io ho la fortuna di conoscerne uno, riescono a fare di quelle robe inverosimili. Ok? You know? Ciao l'AMS086! Lui non lo sa, ma io lo so. E senza chi vuol capire capisca, quando scrivono 86 o 95 o 74, non è detto che sia la data di nascita, attenzione eh, poi magari lo è, come magari no. Qua lascio il mistero della situation. Quindi, per favore, non sposate in questo modo, cioè sposate le cause, ma soprattutto in un modo intelligente. Cioè, se vi piace uno youtuber fitness, qualsiasi youtuber, va bene difenderlo, ma fatelo sempre con cognizione di causa e con un minimo, un minimo di rispetto. Poi, se dico cagate, per te puoi anche dirmelo. Punto qual è? Che ci sono cagate, ad esempio, che io non dico. Ragazzi, chi possiamo andare a prendere? Chi possiamo andare a prendere se non il grande Wallace? Cioè, io ho certe cose del tipo venite a me, il Monte Olimpo. Cioè, io queste robe non le dico. Poi, voglio dire, sarà perché lui ha da vendervi delle cose e io al momento no. Chi lo sa, magari un domani anch'io faccio le marchette, sempre con onestà intellettuale per quanto mi riguarda. Però voglio dire, anche se fai le marchette come tanti altri, ti puoi comunque comportare in un modo un pochettino più sobrio e consone all'intelligenza dell'essere umano. Con un minimo, un pizzichino, cazzo, 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 io, io, di umiltà, Cristo santo. Video lunghetto. Tenete presente che io nei miei video fino adesso non ho mai fatto un taglio. Ci credete o no? Magari tanti lo fanno lo stesso. Io non ho mai schiacciato pausa e poi ripreso. Faccio sempre tutta una tirata. Vi garantisco che non è facile perché devi sempre mantenere il filo di quello che dici e, ripeto, non è così semplice. Era una parentesi che volevo aprire sulla questione. Ritornando a noi e al tema del discorso del video, scusatemi, non sposate le cause o perlomeno quando le sposate rimanete attaccati col cervello. Non fate, come posso dire, gli esclusivisti, gli assolutisti. Quello è basta, c'ha ragione lui. Qualsiasi cosa dica a prescindere. Quello che a me fa incazzare letteralmente quando si dà ragione a un qualcosa, a un qualcuno, a prescindere. Cioè ancora prima che parla io gli do ragione. Cosa che si fa soprattutto con la politica, no? Che non entro nel tema, ci mancherebbe. Il leader politico parla. Non mi interessa neanche. O meglio o meno. O perlomeno non ho bisogno neanche di sentire cosa dice. Già ancora prima di parlare per me ha ragione. Sbagliato. Sbagliato. Non si dà ragione a un soggetto a prescindere. Bellissimo il commento di, come cavolo si chiama, Tair Crivelli se non sbaglio. Infatti io gli ho esposto anche. Marco Tair, scusami non mi ricordo bene il nome, perdonami. Credo Michael, Marco Tair Crivelli, una roba del genere. Perdonami ancora se non ricordo bene il nome. E dove ha scritto? Ma cazzo, ma dove andiamo a finire quando questi quattro ragazzini di 13-14 anni che vanno alle medie si permettono di offendere così gente che ha 50-60 anni, che magari ha 40 anni sul campo e questi parfa. Magari fa, io mi innervosisco io che ho meno anni di coppa per esempio, no? A sentire quelle cose. Magari negli anni 80 o 90 avessimo avuto YouTube e gente che spiegava di una certa età determinate cose e che metteva, o comunque giusto o sbagliato, metteva la sua esperienza a disposizione di tutti. Gratuitamente, perché fino adesso si parla gratuitamente. E va bene così, lo voglio io. Mi sta bene così. Domani si vedrà. Ma adesso mi va bene così. E quindi c'è, magari ci fosse stato. E perché? Perché siamo in un'era dove tutto subito e sono tutti dei coglioni. Perché una volta, e dico questo piccolo dettaglio, qua mi potranno capire quelli vicino alla mia età o anche più della mia età, una volta non c'era il leone da tastiera, c'era il buffone di quartiere, che il più delle volte era un buffone letteralmente. Cioè c'era quello tosto, quello forte, che veniva, parlava e menava, appunto, e nessuno si permetteva di disquisire perché prendeva saccagnate. Ma poi c'erano i buffoncelli che arrivavano, facevano i galletti e poi prendevano palate. Adesso questa condizione non c'è più. Infatti una volta, quando chi faceva il buffoncello prendeva le palate pesanti, pesanti, non solo con le mani, ma anche con la mancanza di rispetto degli altri che cominciavano a prenderli per il culo, molti, la maggior parte, cambiavano registro. Perché a schiaffarsi o a prese per il culo, alla fine si rendevano conto che non era il caso di mancare di rispetto agli altri, soprattutto quelli più grandi. A maggior ragione se poi non c'era neanche motivo. Solo per fare i galletti e i buffoncelli. Prendevano palate. Adesso c'è la tastiera. Cazzo gliene frega loro. Arrivano, magari c'hanno 14, 15 anni, sentono parlare uno di 50, 60 anni che non fa lo scemo o fa del trash talking alla telesmunto. Con tutto il rispetto per telesmunto. C'è la gente che gli piace ben per loro, voglio dire. No? Quindi uno un attimino sulle righe, diciamo così, e si permettono di vomitare merda da tutte le parti. Ti danno del somaro, ti danno, vai a lavorare, no? Cioè, poi questi personaggi, no? Perché poi ripeto come vi ho detto, ho fatto una scoperta bellissima, questi se li becchi veramente per strada, si fanno la cacchetta i filettini di diarreina nella mutandina. Ma ve lo dico io. Fidatevi della mia parola. Vabbè, dai. Chiuso argomento. Ritorniamo sempre a quello di prima e chiudo il video, che è sempre tutto d'un fiato. Ragazzi, se volete sposare una causa, cioè che vi piace uno youtuber, va bene. Ma ricordate che anche io stesso può capitare che dico una cagata. Posso sbagliare anch'io. Per dire, l'altro giorno una ragazza mi ha mandato la cosa di come si dice un video con, proprio esplicativo, bulk. Perché io dico bike, dicevo bulk, sono in bike. Non si dice bike, si dice bulk. E mi ha fatto piacere. Questa è una correzione che io accetto. Non faccio il presuntoso, vabbè, io lo so che cazzo, o faccio finta di niente. Ho fatto la mia battuta nel commento e ho ringraziato della correzione. Ma sincero, grazie. Certo che se mi scrivi, somaro di merda, sei un coglione del cazzo, non capisci una minchia della vita, non si dice bulk, ma si dice bulk. Vai a cagare, cretino? Magari! Potresti avere anche un tono un attimino più rispettoso. No? You know? Va bene, ragazzi. Da casa dormitorio del Coppa è tutto qua. Vi saluto a tutti quanti. Un bel buon dì. Facciamo anche l'arbicocca e diamoci alle pazze e gioia. Il cacao a tutti. Molto ovviamente. Ciao ciao!